E la scuola ci insegna la cosa più facile, lo diceva la dirigente, che l'integrazione non è un fatto che lo deve inculcare qualcuno, è naturale. Noi pensiamo che la bellezza e la cura passi per le scuole interculturali, passi per le scuole inclusive, passi per le scuole dove la differenza tra gli studenti, anche quelli con background migratorio, è considerata una ricchezza e non un problema. Le scuole interculturali sono un modello per questo paese perché confrontandosi tutti i giorni con le difficoltà riescono ad accogliere meglio di altri luoghi ed è per questo che noi crediamo che dalla scuola alla strada, dalla scuola alla città, bisogna assolutamente riflettere sulle strategie da mettere in campo, che non sono sicuramente l'odio, il rancore, il conflitto, ma il dialogo, la partecipazione di tutta la comunità alla vita dei ragazzi e delle ragazze. Anche quando questi ragazzi e queste ragazze appartengono alla seconda generazione di stranieri, sono essi stessi stranieri, sono neoarrivati, non è importante come siano, sono ragazzi e ragazze e tra di loro sono uguali e diversi meravigliosamente. Quindi abbiamo voluto questa riflessione insieme alla direzione del studente, proprio perché la scuola è più avanti a volte delle pratiche xenofobe di questo paese, ci teniamo a dirlo. Grazie a tutti.